Io non ci posso credere che nel derby dove veramente siamo arrivati col morale più a terra di tutti, non solo non li abbiamo fatti vincere, ma abbiamo addirittura vinto noi. Io veramente sono allibito da cosa ha fatto il Milan stasera. Stasera i punti da analizzare sono tanti e questa sera, bene o male, finalmente, dopo tanto tempo, a parte non vinciamo fuori casa da Fiorentina-Milan di marzo scorso, prima del weekend di Pasqua, in Milan si porta a casa il risultato in maniera totalmente inaspettata. Cioè, ma chi l'avrebbe mai immaginato? Poi però, guardi la partita e onestamente capisci perché il Milan ha vinto. Capisci perché il Milan ha vinto, ragazzi. Il Milan ha fatto un partitone. L'Inter effettivamente meritava qualcosa di più sui fini del primo tempo, che poi il gode del Parigi l'ho trovato comunque, però forse meritava qualcosa di più, ma al secondo tempo solo Milan. A parte la girata di Latoro Martinez, solo Milan. È un derby dominato. Sembrava, manca poco, che si fossero invertiti i ruoli rispetto a quello che è successo recentemente. Io sono contentissimo e quando dico, e qua mi sintestardisco un casino perché io voglio essere chiaro, che le prestazioni vengono prima del risultato. Ve lo dico adesso e avrò tutti contro. Ma se oggi il derby fosse finito in pareggio, con una prestazione così, io sarei stato contento lo stesso. Perché oggi il Milan ha messo, io penso di non aver visto un Milan bello così dal momento, dallo scudetto. Perché da lì in poi ho visto sempre il Milan brutti. Brutti, brutti, brutti. Ora, a spanne vi posso dire, ma neanche il Milan che è andato a Newcastle l'anno scorso? No, no, no. Forse il Milan col PSG l'ho visto quasi vicino al Milan di oggi. Ovviamente adesso io dico, hai vinto il derby? Siamo tutti, hai fatto felice mezza Italia perché hai fatto felice anche i non milanisti? Adesso io vi voglio sul pezzo. Adesso vi voglio che quando è venerdì giochiamo con Lecce, in casa, in casa con Lecce. Ripeto, in casa con Lecce, voi il Lecce venerdì me lo dovete disintegrare. Io con tutto, sportivamente ovviamente, eh. Un saluto agli amici leccesi. Lo dovete disintegrare in Lecce perché è così che vi voglio. C'è Lecce, disintegratemelo. C'è il Berle Verkusen, andatevela a giocare. Poi chi c'è? La Fiorentina, credo, Napoli, andatevela a giocare. Perché questo è quello che vogliamo vedere. Ci sono delle imperfezioni. Perché nonostante tutto, potevamo fare due gol nel finale. Noi li abbiamo fatti e questo è grave perché il gol di Okafor, il gol mangiato da Okafor è una cosa ridicola. In difesa abbiamo ancora delle incertezze che si sono rivelate sul gol del pareggio. Comunque nel finale è stato lasciato libero Darmiano nel mezzo all'area. I terzini che si stringono quando giochi soprattutto contro una squadra che gioca sugli esterni. Perché è una squadra che gioca sugli esterni e tu non mandi gli esterni a prendere i loro esterni avversari. Secondo me è un grande errore. Infatti, chi ha fatto gol? Di Marco. Però, al netto delle cose, io oggi finalmente ho visto più aspetti positivi che negativi. E li ho visti contro la squadra più forte del campionato. Perché non nascondiamoci? È la squadra più forte del campionato. A me non mi interessa, eh? È la squadra più forte del campionato. Oggi ti sei misurato con una big. E io dico, se tu sei stato capace di fare questa prestazione oggi, che io spero, inietti una grossissima dose di fiducia, perché quello spero. Possibile che contro il Parma, contro la Lazio... Lazio? Comunque la Lazio, ma vincevi. E comunque contro il Liverpool, che ne ha presi tre dall'Atalanta. L'anno prima ne ha presi un ballino dal Napoli. Non sei capace di togliere un ragno dal buco? Ora, se questo derby serve per invertire la rotta, io sono il primo che vi appoggia, sono il primo che vi sostiene. Però, che non sia la rondine che fa primavera. Che questo sia il Milan che vogliamo vedere. Io, Fonseca, non l'ho mai ammirato come allenatore né sulla panchina del Milan, né sulle panchine precedenti che ha avuto. Perché, l'ho sempre considerato un allenatore meglio di Pioli, ma molto mediocre, come ho sempre detto. Non è l'allenatore che, secondo me, porti a colmare il gap con l'Inter, allenando il Milan. Però, bisogna dire che oggi il gap non l'ha colmato. Se guardiamo solo la prestazione di oggi. Il gap l'ha... L'ha distrutto il gap. Perché l'ha distrutto. Ha proprio ribaltato la barca. E a me fa piacerissimo, perché io sono sempre... Io sono il primo sostenitore, ma sono anche il primo che cerca di farvi aprire gli occhi quando le cose vanno male. Le cose oggi sono andate benissimo, sono contento, sono felicissimo, però ricordate che le agguati sono sempre dietro l'angolo. E ciò significa, ragazzi, che... Settimana prossima abbiamo Lecce, poi abbiamo altre 33 partite di Serie A dove, onestamente, possiamo scivolare ancora. E quello che mi auguro è che questo derby serva a scivolare il meno possibile da qua a maggio. Poi, qualche scivolone ci starà. L'anno che si è vinto con lo Scudetto si è perso con lo Spezia, si è perso con la Fiorentina, si è perso con il Sassuolo, si è pareggiato con la Sernitana, di puttanate ne abbiamo fatte, perdonatemi il termine, a valanghe. Però, eh... Il fatto sta che oggi abbiamo fatto una grande gara. E quando Mina fa una grande gara, che dico, il risultato viene dopo le prestazioni. Oggi è una di quelle. Perché, ripeto, se avessimo pareggiato in una situazione di difficoltà in cui siamo, perché non siamo proprio al top della condizione, non siamo proprio al top della spensieratezza, sarebbe andato bene. Ma anche questi avessero pareggiato all'ultimo, io avrei rusicato un casino, però dimostra che le qualità ci sono. Ci sono, analizziamo che comunque il primo gol è nato da un'invenzione di Pulisic, che non era proprio un'azione corale. Il secondo gol è stato un calcio piazzato, che poi godo malissimo, perché è fallo di Di Marco. Proprio lui, cartellino giallo, sulla punizione trovi il gol, quello è stato proprio quello. Trovi il gol, però diciamo che sulle azioni corali vedi gol mangiati, tipo quello di Okafor sul finale o quello di Abram, Fonseca deve lavorarci tantissimo. Ora, io mi rammento l'occasione di Leao all'inizio del secondo tempo, quella ha fatto una grande parata Sommer. Leao non è un grande colpitore di testa, ha fatto meglio che poteva e va bene. Infatti, poi quando il colpitore di testa è salito in cattedra ha vinto la partita, non è che ha fatto gol, ha proprio vinto la partita. Parlando individualmente, questa partita, quando vinci queste partite devi promuovere tutti. Devi promuovere tutti da primo all'ultimo. se devo trovare qualcuno che non ha giocato secondo me, diciamo che non ha fatto la migliore partita della sua vita, mettiamola sotto questo punto di vista, io direi Ternandez. Direi Ternandez, Ternandez mi prende la responsabilità di metterlo un gradino sotto Emerson Royale, perché comunque Emerson Royale ha fatto una grande cagata sul god del 1-1, perché se tu mandi non raddoppi triplichi un avversario quello la palla non la deve e non la può scaricare perché tu devi essere sufficientemente bravo da toglierla, soprattutto in 3, perché loro te la toglievano in 1, tu non gliela hai tolta in 3. Però, offensivamente, e tolto quell'errore Emerson Royale ha fatto una partita che io a un terzino del Milan, una partita così terzino destro, non la vedevo fare da una vita, anche perché abbiamo avuto Calabria, Conti, Vangioni Costant Taiwo e io oso dire che una prestazione del terzino destro così non la vedevo dai tempi dell'ultimo Zambrotta. Poi, è un sacrilegio paragonare Zambrotta a Emerson Royale e viceversa, per carità. Zambrotta non si tocca. Però, al neto della prestazione ha tolto il gol ha fatto ha fatto ha fatto una gran partita. centrocampo che funziona e sei indovinato un po'? Indovinato un po' che è successo? Quanti anni è che io faccio video dicendo che il 4-2-3-1 non è il modulo che non è adatto al Milan? Il 4-2-3-1 è proprio un modulo anti-calcio. Come puoi pensare di giocare con i mediani che vanno direttamente al trequartista? non c'è filtro in difesa? Giochi con i mediani adattati? Oggi che hai fatto? Hai cambiato modulo? Hai raddoppiato la copertura sugli esterni? Poi comunque gli esterni hanno giocato molto più di quello che avrebbero dovuto. Hai vinto la partita giocata a due punte? Hai vinto la partita. Ma va. 3-5-2-4-4-2-4-3-3 questa squadra ragazzi ha giocatori per fare una serie di moduli che voi manco vi immaginate e cosa avete fatto? Avete giocato per anni col 4-2-3-1 che è il modulo più anti-calcio cioè è meglio il 4-2-4 ragazzi è meglio il 4-2-4 a questo punto con attaccanti buoni è assolutamente migliore. Nota di merito anche per Leao che comunque ha provato a fare gol e ha saltato diversi uomini si è intestadito un po' troppo mi viene in mente l'occasione che è entrato in area non ha servito Pulisic prima non ha servito Reinders poi non ha servito Leao però gli va detto che non è stata la sua miglior prestazione e questo penso sia ormai scontato però con tutta la franchezza di questo mondo non può dare un voto insufficiente a Leao gli vuole dare un 6,5 dagli un 6,5 però è un'insufficienza a Leao oggi ovviamente l'MVP è Matteo Gabbia Gabbia che non solo ha fatto gol ma in difesa ha tenuto in una maniera tremenda tremenda è in senso positivo detto questo ragazzi non approfitto a fondo al video per dirvi che mi hanno balato la tiktok ho fatto pure il reel su lo shorts cazzo chiamatelo su youtube e quindi vi chiedo gentilmente con tutta la calma con tutto l'amore di questo mondo di tornare a seguirmi su tiktok perché le live action diciamo tagliate proprio ridotte ai minimi termini escono pure laggiù ovviamente domani c'è la live reaction di questo derby che questa volta sanamente non vedo l'ora di montare e ragazzi io vi ringrazio like al video e iscrizione al canale più che iscrizione al canale il follow su tiktok che per me varrebbe oro colato ci vediamo grazie ragazzi alla prossima per Mila Lecce grazie a tutti